Nel cuore del Mediterraneo emergeva una città destinata a scrivere una delle pagine più incredibili della storia umana, Roma. Fondata secondo la leggenda dai mitici gemelli Romolo e Remo, questa città sconfinata ha dato vita a un impero inarrestabile. Al comando di straordinari leader come Giulio Cesare e Augusto, Roma si espande rapidamente, piegando territori lontani alla sua volontà. La vita quotidiana nell'antica Roma trasuda vibrante diversità, con strade affollate, forum animati e una vita sociale sfavillante. L'arte e l'architettura romane evocano grandezza, dalle colonne maestose ai archi trionfali e ai straordinari capolavori artistici. La grandezza di Roma era palpabile in ogni suo angolo e la sua ascesa e dominio nell'antichità rimangono un capitolo affascinante nella narrazione della civiltà umana. Tuttavia, il nostro viaggio nell'antica Roma non sarebbe completo senza l'esplorazione dell'epica creazione del Colosseo. Questo straordinario anfiteatro emerse da un'idea audace che trasformò un terreno paludoso in un monumento senza pari. L'imperatore Vespasiano e suo figlio Tito, visionari del loro tempo, guidarono il progetto. Gli architetti romani, sotto la guida magistrale di Apollo d'oro di Damasco, affrontarono la sfida titanica di concepire una struttura così maestosa. Il Colosseo prende vita grazie all'uso sapiente del travertino, un calcare bianco e duro, e del cemento romano, con un esercito di schiavi e abili operai che diedero forma alla sua grandezza in ogni dettaglio. Il nome Colosseo deriva dalla maestosità del Colosso di Nerone, una statua imponente che una volta si stagliava maestosamente nei pressi dell'arena, un tributo visivo all'ambizione e alla grandezza di Roma. Immergiamoci ora nei dettagli architettonici di questo monumento senza pari. Il Colosseo si erige maestoso, sfidando il cielo con una facciata imponente e intricata. Le colonne corinzie, finemente scolpite, sembrano reggere il peso di un'intera civiltà, mentre le tribune, come anfiteatri verso le stelle, accolgono spettatori in un abbraccio imponente. Ma è nell'arena stessa che l'ingegno raggiunge il suo apice. Un intricato sistema di tunnel sotterranei si intreccia sotto il suolo, ospitando gladiatori e bestie feroci in attesa del loro destino. Trappole segrete, quali porte nascoste e ascensori, aggiungono un tocco di suspense agli spettacoli. L'architettura grandiosa del Colosseo rappresenta un simbolo di potenza, funzionalità e maestria ingegneristica, lasciando un'impressione indelebile nella mente di chiunque abbia il privilegio di contemplarla. E ora, addentriamoci negli spettacoli e nelle lotte che hanno fatto vibrare il Colosseo, trasformandolo in un teatro di emozioni e adrenalina. Gli eroi dell'arena, noti come gladiatori, erano addestrati al massimo delle loro abilità per sfidarsi in duelli epici, dove l'onore e la morte pendevano in bilico. Queste sfide erano veri e propri spettacoli di abilità, strategia e coraggio, che catturavano l'immaginazione di migliaia di spettatori affascinati. Ma il Colosseo non si fermava qui, offrendo anche incredibili battaglie navali simulate, con l'arena allagata e navi in miniatura che si scontravano in scenari mozzafiato. L'arena dell'antica Roma non era solo luogo di spettacolo, ma un palcoscenico per le gesta eroiche e il sacrificio, trasmettendo un'eredità di intrigo e avventura che sopravvive ancora oggi. In questo viaggio avvincente attraverso l'antica Roma e il Colosseo abbiamo attraversato le ere, esplorato l'architettura grandiosa e svelato storie avvincenti. Il Colosseo è molto più di una semplice struttura, è un'epica testimonianza silenziosa di un'epoca gloriosa e un simbolo di resistenza e grandezza che continua a incantare il mondo. Le sue pietre sono cariche di emozioni e di epiche gesta, e la sua magnificenza rimane un tributo indelebile all'ingegno umano. Grazie per averci accompagnato in questo straordinario viaggio nel tempo attraverso la storia dell'antica Roma e del Colosseo. Se il video vi è piaciuto, non dimenticate di lasciare un like, condividere e iscrivervi al nostro canale per esplorare altre epoche affascinanti della storia. Non vediamo l'ora di accompagnarvi nella prossima avventura. A presto!